Perfetto, allora buonasera a tutti, come ha anticipato sono Federica Ferroni e sono la referente dell'Agriculus Academy. Per chi si fosse collegato oggi per la prima volta la nostra Academy offre corsi di formazione a tutti i professionisti del settore intenzionati ad introdurre strumenti innovativi nel loro lavoro quotidiano. Agriculus nasce ufficialmente nel 2017 ma alle spalle molti anni di lavoro dell'azienda Madrid in Dev e lo spin-off del Sant'Anna di Pisa Edit. Grazie alla disponibilità della piattaforma in sei lingue alla versione gratuita abbiamo raggiunto ad oggi 61 nazioni e la nostra Academy ha formato più di 1500 professionisti. Il grande vantaggio è quello di avere più tecnologie in un'unica piattaforma dedicata all'agricoltura. Primo fra tutti la possibilità di mappare gli appezzamenti e registrare tutte le informazioni in modo geolocalizzato che è proprio quello di cui parleremo oggi. Immagini satellitari in particolare da Lanzatotto nella versione gratuita e da Sentinel2 negli altri abbonamenti su cui elaboriamo internamente indici di vegetazione, in particolare indici di vigoria di clorofilla e di stress idrico che permettono di monitorare lo stato di salute della vegetazione anche in remoto. Modelli previsionali che si basano su dati reali, in particolare dati meteo forniti dalla stazione meteo che può essere fisica o virtuale e questi danno un'indicazione circa lo sviluppo della coltura, l'insorgenza di fabbisogni idrici o nutrizionali oppure per valutare l'insorgenza di fitopatie e insetti dannosi così da agire tempestivamente e ridurre gli input e i prodotti utilizzati. Quello che sia è quindi un sistema di supporto alle decisioni che permette di affidare le proprie scelte non solo ed unicamente sull'esperienza e le sensazioni ma su dati reali e concreti. L'obiettivo è proprio di trasformare tutti questi dati in informazioni utili a scegliere la migliore fra le alternative disponibili. C'è poi tutta la parte che stiamo sviluppando proprio in questo periodo dedicata al collegamento con sensori ed hardware esterni, primi fra tutti ad esempio la possibilità di elaborare mappe di prescrizione da inserire nei macchinari per la distribuzione a rate o variabile. Al centro del sistema viene posto il campo e quindi la gestione agronomica. L'obiettivo è quello di ottimizzare la produttività, migliorare la gestione delle colture e ridurre i costi e l'impatto ambientale. I tre pilastri della piattaforma sono quello del controllo possibile grazie ai dati che vengono forniti e registrati dall'utente, la parte di previsione grazie all'elaborazione dei modelli previsionali che forniscono un supporto nella scelta delle operazioni culturali da effettuare e infine la parte dedicata alle decisioni, c'è infatti una vera e propria rivoluzione del processo decisionale. Oggi come anticipato andremo a parlare della raccolta dati in campi e quindi dell'attività di crop scouting, infatti nonostante le numerose tecnologie a disposizione del settore agricolo, rimane fondamentale la validazione dei dati grazie alle informazioni raccolte in campo dai tecnici. Queste sono fondamentali proprio per integrare i dati e quindi elaborare ulteriormente i dati satellitari e confrontarli con quello che effettivamente accade in campo e registrare tutte le informazioni relative alle operazioni culturali, i dati di campo e i dati meteo che vengono registrati e forniti dalla stazione meteo. Tutte queste informazioni sono utili sia nel breve periodo che a lungo termine per fare delle valutazioni circa la cultura ideale da impiantare nelle stagioni successive che le operazioni da svolgere nel breve periodo. Registrare le operazioni culturali serve per controllare le attività sia nel tempo che nello spazio e questo come dicevo vale sia per il ciclo culturale in atto che per le annate successive. Tutte le aziende ogni anno producono una mole di dati enorme, molto spesso però questi vengono persi e non utilizzate nelle valutazioni per gli anni successive. Sono invece degli input di fondamentale importanza per scegliere appunto la migliore fra le alternative. Quando parliamo di registrazione delle operazioni culturali, questo vuol dire registrare tutte quelle operazioni che vengono svolte durante la stagione, a partire dalle lavorazioni del suolo, la gestione, le operazioni di semino o trapianto fino alla raccolta. La registrarle in piattaforma permette di visualizzare questi dati in ogni momento, poterli filtrare per campo, per unità produttiva o per cultura e quindi fare delle analisi molto veloci e immediate. Oltre al fatto che registrare queste informazioni va ad influenzare anche i modelli previsionali che quindi sono un ulteriore strumento a supporto dell'agricoltore. Registrare un'operazione culturale significa indicare come questa è stata svolta, dove e quando. Per facilitare gli agricoltori e i tecnici nella fase di registrazione abbiamo collegato alla nostra piattaforma un'app mobile che permette di registrare in tempo reale le operazioni svolte e quindi essere già geolocalizzati in campo e andare ad inserire solo i dati di interesse. Quando parliamo di crop scouting ci riferiamo all'attività che prevede il movimento attraverso il campo coltivato facendo frequenti soste per raccogliere informazioni. L'obiettivo è quello di conoscere l'andamento di crescita delle diverse aree del campo ma anche raccogliere informazioni circa le infestazioni e quindi monitorare il controllo della presenza di insetti dannosi o fitopatie. Le informazioni che vanno registrate possono essere relative a danni causati da fattori biotici quindi quelle legate ad esseri viventi, insetti dannosi, mammiferi o danni appunto legati a esseri viventi. Danni causati da fattori abiotici in questo caso ci riferiamo a fattori climatici quindi ad esempio effetti come grandine, vento o così via. Altri parametri di fondamentale importanza da registrare sono le analisi del suolo e quindi dare un'indicazione circa le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche di un terreno. Questi parametri vanno sempre ad influenzare i modelli previsionali come ad esempio quello legato all'irrigazione o alla fertilizzazione e poi c'è la possibilità di registrare altre anomalie e questo è utile soprattutto per gestire le attività con i propri collaboratori così da risolvere in tempi ristretti tutte le problematiche riscontrate. Anche qui l'obiettivo è analizzare e controllare la variabilità sia nel tempo che nello spazio. Abbiamo detto che raccogliere le informazioni in campo è di fondamentale importanza ma queste acquisiscono un valore aggiunto se vengono raccolte in modo adeguato. Per farlo esistono diversi metodi di campionamento. Quando parliamo di campionamento ci riferiamo alla raccolta di informazioni relative ad un solo, ad un campione di popolazione quindi solo una porzione del campo coltivato per stimare le caratteristiche dell'intero appezzamento. Migliore sarà la tecnica con cui raccolgo queste informazioni più il campione sarà rappresentativo dell'intero appezzamento. Occorre quindi che questo campione sia in grado di rappresentare l'intero campo su cui sto effettuando il monitoraggio. Il campione può essere randomizzato o casuale. Esistono diversi metodi di campionamento che si distinguono i non probabilistici e probabilistici. Il primo caso, quello non probabilistico, si riferisce al campionamento di convenienza. In questo caso la selezione del campione utilizza parametri di comodità e praticità. Viene impiegata in quegli appezzamenti che hanno un accesso difficoltoso e che quindi non permettono la geolocalizzazione dell'utente o di accedere in modo facile all'intero appezzamento. Per questo andrò a raccogliere campioni in un unico areale del campo. Sicuramente fra i fattori positivi è che questo è estremamente comodo perché si basa appunto su criteri di praticità. Potrebbe però fornire un campione non rappresentativo dell'intero appezzamento, il che causa probabili errori sistematici in quanto la selezione non è casuale. Tra i metodi di campionamento probabilistici abbiamo la randomizzazione semplice. In questo caso la selezione del campione garantisce la casualità delle estrazioni, cioè la scelta delle piante da monitorare avviene in modo totalmente casuale e quindi va a costituire quello che è un ottimo statistico e fornisce un campione rappresentativo. È però molto difficile da attuare se il tecnico non conosce perfettamente l'appezzamento oppure non ha strumenti che permettano la geolocalizzazione del tecnico in campo. Per questo prima vi nominavo l'app mobile che permette proprio di geolocalizzarsi all'interno del campo e quindi riuscire a coprire in modo casuale l'intero campo. Non è sicuramente basato su criteri di comodità, infatti oltre a dover avere a supporto degli strumenti GPS deve essere il campo ben accessibile così che il tecnico possa raccogliere informazioni sull'intero areale. Il campionamento sistematico prevede invece di utilizzare delle tecniche per raccogliere informazioni seguendo un intervallo regolare. Questo metodo è sicuramente facile da applicare e assicura una distribuzione uniforme del campione, prevede quindi il monitoraggio di tot piante ogni tot filare, ad esempio nel caso di un impianto arboreo, un vigneto o così via. ci si deve però assicurare che non si ripetano variabili con la stessa ciclicità, ad esempio un impianto di irrigazione, una gestione del suolo differenziata così da avere un campione casuale e rappresentativo. Anche in questo caso si può applicare in campi ben accessibili. Infine abbiamo il campionamento stratificato. Questo metodo prevede un'elaborazione precedente l'uscita in campo e prevede un'analisi delle zone del campo basato su criteri di stratificazione che identificano zone omogenee all'interno dell'appezzamento, su cui mi aspetto di raccogliere informazioni abbastanza omogenee per ciascuna area. Anche qui avrò sicuramente un campione rappresentativo che tiene in considerazione fattori che hanno effetto noto. Anche qui ovviamente avrò bisogno di strumenti per l'identificazione di queste aree. I criteri di stratificazione si possono basare su diversi aspetti. Primi fra tutti gli indici di vegetazione. Infatti può essere svolta precedentemente l'uscita in campo un'analisi degli indici di vigoria, di stress idrico o di clorofilla che permettono di identificare zone omogenee all'interno del campo e quindi andrò poi a verificare l'effettiva corrispondenza dell'informazione ottenuta da satellite con quello che ho riscontrato in campo. Altri criteri di stratificazione possono essere quelli legati alla fase fenologica in atto se è stata riscontrata un diverso sviluppo della cultura all'interno dell'appezzamento oppure le operazioni culturali svolte se queste sono state condotte in un'unica porzione del campo per confrontare e raccogliere informazioni circa le differenze fra queste aree. Alcune informazioni utili sempre in merito alla dimensione del campione. Ovviamente maggiori sono le informazioni che andrò a raccogliere in campo più la stima sarà precisa. La dimensione della popolazione non influenza però la dimensione del campione. Questo vuol dire che anche in apprezzamenti molto ampi anche se ho condizioni omogenee non dovrò per forza raccogliere un numero elevato di campioni. Questo perché mi aspetterò comunque un'omeogenità fra di essi. Viceversa anche in piccoli appezzamenti se all'interno di essi ho un'ampia variabilità dovrò raccogliere un numero elevato di campioni così da avere informazioni rappresentative. Per popolazioni con alta varianza meglio campioni grandi appunto per sottolineare che se la variabilità è elevata dovrò raccogliere quante più informazioni possibili. Vado ora a condividere un'altra schermata per fare degli esempi pratici. Dovrei aver condiviso la schermata della nostra piattaforma per farvi vedere nel dettaglio come possono essere registrate le informazioni e qual è l'utilità di averle in un'unica piattaforma. In particolare posso andare a registrare in modo geolocalizzato le analisi del suolo. Questo mi permette sia di avere queste informazioni sempre a portata di mano che andarle ad inserire nei modelli previsionali, quelli ad esempio per irrigazione e fertilizzazione, che tengono in considerazione tutti questi parametri e quindi forniscono un'indicazione realistica circa la dose irrigua da portare. Per la parte di segnalazione posso andare ad indicare tutte le problematiche riscontrate in campo e quindi indicare se ad esempio c'è stato un problema e assegnare un'attività ad un collaboratore, così che quest'ultimo sappia già dove andare e come risolvere il problema. Nel dettaglio però andiamo a vedere la sezione di Smart Scouting. In particolare nell'area trappole catture posso registrare tutte le trappole presenti in campo, indicare la tipologia nel caso di trappole a feromone ricevo una notifica in prossimità della scadenza dello stesso e per ogni trappola posso andare a registrare tutte le catture. Alla fine avrò un grafico di catture che mi mostra l'andamento nel corso del tempo. Questo è molto utile alle aziende per monitorare gli insetti dannosi, capire quando intervenire e con quale prodotto. Questo strumento ha ancora più validità se confrontato con le informazioni legate ai modelli previsionali che avvisano circa la presenza degli stadi di sviluppo dell'insetto in campo per una lotta più efficace possibile. Nella sezione parassiti e malattie posso appunto registrare la presenza di parassiti e malattie all'interno del campo. Per farlo facciamo un esempio dal più in alto a destra. Vado ad indicare il campo, il punto in mappa dove vado a rilevare questa informazione, come anticipato se utilizzo l'app mobile non dovrò andare ad inserire questi parametri ma saranno compilati automaticamente prendendo la posizione del tecnico in campo. In questo caso l'elenco sarà specifico per la coltura presente in campo, infatti a seconda della coltura avrò un elenco specifico di parassiti e malattie. Dopodiché potrò andare ad indicare se questo è assente o presente e indicare l'intensità del danno. Ogni informazione può essere legata alla creazione di una segnalazione che quindi invia una notifica a tutti gli utenti collegati all'account per avvisarli del problema o creare un'attività collegata, ad esempio per registrare che va effettuato un trattamento dato che è stata rilevata la presenza di un parassita o una malattia. Danni alla coltura per registrare invece qualsiasi altro tipo di problematica legato quindi a danni abiotici come vento, grandine o a mammiferi o altri problemi. Per quanto riguarda la fenologia invece l'utente può andare a segnalare lo stadio fenologico rilevato in campo. Questa è un'informazione molto importante perché permette di correggere o integrare il modello previsionale sulla fenologia di cui ad esempio parleremo nel prossimo incontro. Tutte queste informazioni se registrate sempre con l'app mobile permettono anche di allegare delle foto da condividere in tempo reale con i propri tecnici o il proprio agronomo. Ultima parte, queste informazioni poi tornano utili anche per integrarle con le altre informazioni della piattaforma come dicevamo prima. C'è infatti la possibilità di visualizzare come in questo caso un indice di vegetazione scelto e attivare nella mappa tutte le segnalazioni riscontrate quindi legate a trappole, catture, parassiti e malattie o segnalazioni di altro tipo. Così da confrontare se le aree sottoposte ad uno stress sono anche correlate ad un'osservazione svolta dal tecnico in campo e poter integrare e confrontare i dati. Tutte le informazioni registrate dai tecnici in campo così come le operazioni culturali di cui parlavamo prima possono essere in ogni momento scaricate in formato Excel o CSV. Nella sezione lavoro ho appunto la possibilità di registrare tutte le operazioni culturali svolte. In mappa ho la colorazione dei campi che segue l'andamento nel corso del tempo e quindi posso io selezionare l'operazione di mio interesse, quella che voglio analizzare e vedere da quanto tempo è stata svolta nei vari appezzamenti. Oltre a questo anche qui posso selezionare un'operazione culturale nel dettaglio e andare a scaricare un Excel per singolo campo, per unità produttiva o per cultura e avere tutti i dati sempre a disposizione. Non so se ci sono domande, dubbi, curiosità. No Federica, io non sto vedendo in questo momento domande sulla chat. Salvatore Gizi segnalava che l'interesse è quello dei big data e l'utilizzo chiaramente di questi dati in agricoltura. Evidentemente insomma la piattaforma che hai fatto vedere è in grado di gestire anche questa tipologia di dati. È chiaro che stiamo parlando in questo momento di applicazioni particolari, quindi di una tipologia di dati particolari. Probabilmente Salvatore allude anche al fatto di poter eventualmente integrare ma a prescindere diciamo dai rilevi in campo anche altri dati, ma sono evidentemente altre piattaforme, come si usano altre soluzioni immagino, non so se vuoi accennare questa cosa. Certo, assolutamente. Per le associazioni di categoria, le aziende trasformatrici abbiamo soluzioni che permettono di confrontare e analizzare i dati di diverse aziende e questo si basa sulla disponibilità di una professional dashboard che permette di agganciare al di sotto diverse aziende e poter monitorare i loro dati, inviare bollettini di allerta e diciamo supportarle e fornire consulenza agronomica. Questa è una soluzione che sta avendo grande successo appunto per fornire un ulteriore servizio alle piccole aziende e potergli dare maggiore forza nel mercato e utilizzare questi dati in modo efficace ed efficiente. Ok, grazie. Non so, avevi altri temi, hai altri temi da approfondire? No, volevo concludere sempre ricordandovi i nostri canali social su cui potete seguirci, avere le ultime informazioni, vedere i registrarvi ai prossimi webinar o leggere gli articoli del nostro blog. C'è la possibilità poi di registrarsi alla versione gratuita, Agriculus Free, che permette di utilizzare alcune delle funzionalità di cui abbiamo parlato in questo incontro e negli incontri precedenti con una limitazione di 10 ettari. Infine dal nostro sito c'è la possibilità di fissare un appuntamento con un nostro commerciale per una demo della piattaforma e parlare nel dettaglio delle diverse soluzioni e di tutte le possibilità per le aziende agricole. Grazie a tutti.